Prima fare alcune, parlare un po' del ponte delle Tremiti, diciamo, io ho avuto modo di vedere la ricerca storica che l'ingegner De Meo ha svolto e devo dire che è di un pregio e di una bellezza unica, veramente ha ricostruito un pezzo di storia di questo territorio che era a tutti noi sconosciuto. Quindi credo che vada sottolineato il valore di questo lavoro ed è da elogiare l'impegno che l'ingegner De Meo in questi anni ci ha messo in questa ricerca. E quindi sotto questo punto di vista io sono felice di partecipare questa sera a questo convento. Di vista di diventare attrattore turistico sicuramente è una grande idea. Noi conosciamo posti in tutto il mondo che attraverso la realizzazione di un'infrastruttura sono riusciti ad attrarre flussi turistici molto importanti. L'ingegner De Meo mi faceva vedere i dati dell'APT dove nel 2007 ci sono stati appena 208 arrivi di turisti stranieri. Quindi è evidente che le isole tremiti non riescono a catalizzare flussi provenienti al di fuori dell'Italia. Ma diciamo che questo è un problema che non riguarda solo le tremiti ma diciamo che riguarda tutta la nostra provincia.